Le Pantere sbancano la Tana di Monza e si aggiudicano la sfida di andata dei quarti di Champions League. Le ragazze di Coach Santarelli travolgono le brianzole 3-0, trascinate da una strepitosa Egonu devastante con ben 27 punti realizzati in una partita di 3-7. Nel bottino personale anche tre eise in due muri, una sfida che sa più di finale considerando l'uscita di scena delle avversarie russe, escluse dalla manifestazione in seguito alle pesanti conseguenze del conflitto in atto in Ucraina. Le Lombarde scendono nell'arena di Monza determinate, ma la corazzata delle detentrici del trofeo è invalicabile. Con una seconda frazione vinta in rimonta, le Venete cambiano subito ritmo, chiudendo il match con un terzo set in controllo. Alle padroni di casa non bastano gli 11 punti messi a segno da Jordan Porter e Magdalena Stisiak. La squadra di Gaspari tenterà il riscatto contro le campionesse in carica nella gara di ritorno al Palaverde giovedì 17, il derby che vale l'accesso diretto alla finale del torneo.